Russa prima dopo lo short program, Lubov Ilusekina, Nodari Maisuraze, loro partono insieme dal 2006 e ieri ci hanno davvero impressionato con il loro short program, sono i campioni del mondo junior del 2009. Il triplo salto fa in parallelo, molto bene. Triplo twist. Un doppio tolip in sequenza con un doppio tolip. L'arrivo non precisissimo sul triplo lutz lanciato. Buona uscita del lift. Per combo spin, lei un leggero saltello. Per gollo. No! Buone loop lanciate. Accel lift, cambio posizione e discesa difficile. Sono persi nella discesa, nel primo cambio di posizione, hanno perso l'unisono completamente. Recuperato poi. Sono molto originali le discese dai sollevamenti, perché le salite sono abbastanza scontate. Correo Spiral. Anche per loro quest'anno c'è questa Correo Spiral, però lui ha messo giù la gamma, per cui non dovrebbe venirgli assegnata. E al limite della musica la Despair al finale. E dunque Ljubo, Yushekina, Nodari, Maisurad completano il loro esercizio lungo. Grazie. Grazie.